Una cosa che succede spesso online, e sono convinto che tutti si riconoscono in questo, o tantissimi, vediamo tatuaggi pessimi, delle cose inguardabili, con commenti del tipo spettacolare, bravissimo... Da dove arrivano questi commenti? Arrivano dal non saper disegnare e dalla riconoscibilità. In genere, una rosa, per esempio, è riconoscibile. Se è disegnata decentemente, ma neanche, magari è disegnata persino male, è una ciofeca, ma si capisce che stava cercando di ricreare una rosa. Quindi, nel momento in cui io, magari non sono uno che non so disegnare, guardo quella rosa, capisco che sta cercando di ricreare una rosa, e immediatamente diventa bella, perché è bravo, è in grado di fare qualcosa che io non sono in grado di fare, anche se è una ciofeca. Se prendiamo una rosa disegnata da Dio e una rosa disegnata da Cani, le mettiamo in fianco, è facile capire che quella disegnata da Cani è una merda e l'altra è una bella rosa. Ma se prendiamo solo quella disegnata da Cani, semplicemente perché è riconoscibile, immediatamente per qualcuno diventa bella. Che è lo stesso discorso di, che ne so, un ragazzino di dieci anni, bambino di dieci anni, che è un pochino talentuoso, è in grado di ricreare, o almeno ci prova, l'idea di una rosa. I genitori, quelli più grandi, guarda che bravo che sei, sei riuscito a ricreare l'idea di una rosa. Sì, ma magari quella rosa fa cagare. Non è che questo qui improvvisamente è un grande artista perché è in grado di ricreare una rosa. Magari con il tempo potrà anche diventare un grande artista, ma quella rosa non è un'opera d'arte. Quindi quando guardi un tatuaggio, pensa a questa cosa. Quella rosa, quel disegno è bello perché tu non sai disegnare, e quindi, riuscendo a capire che è una rosa, capisci che è più bravo di me, o meriterebbe effettivamente di essere incorniciato ed eventualmente esposto, che ne so, in una galleria d'arte? Pensaci quando guardi un tatuaggio, prima di mettere dei commenti stratosferici su delle ciuffiche. Grazie. 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 Grazie.